Vi auguro una buona giornata e buon weekend. Il messaggio di oggi è armonia. L'armonia dipende dal rapporto con l'universo. Questa carta ti invita a cercare in te il rapporto con l'universo. Probabilmente hai bisogno di concedere più spazio alla tua componente spirituale per ritrovare il senso di comunione universale. Quel sottile disagio che a volte ti assale può essere determinato proprio dalla mancanza di stimoli spirituali e da una visione egocentrica della vita che ti fa dimenticare che per quanto piccoli siano un elemento imprescindibile dell'universo. Questa carta è legata al terzo chakra gioia e fiducia. Al quinto soddisfacimento delle esigenze individuali e al sesto porta d'accesso alla spiritualità. Il consiglio di questa carta di oggi è rilassati e resta in silenzio cercando di percepire lo scorrere dell'esistenza come un fiume nel quale puoi nuotare con gioia. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata.